Brunori Sass, nato a Cosenza, trascorre l'infanzia prima a Joggi, una frazione di Santa Caterina Albanese, e poi a Guardia Piemontese. Si laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Siena. Il nome Brunori Sass è un omaggio all'azienda edile dei suoi genitori, che ha lo stesso nome e ha finanziato la realizzazione di diverse incisioni, ispirando molti dei brani del suo primo album. Esordisce nel 2003 con il collettivo italo-svizzero Minuta, contribuendo con tre brani a varie compilation tematiche. Nel 2005 fonda con Matteo Zanobini e Francesca Storai la band Dream Pop Bloom, che pubblica l'album in tedesco Vuol dire Fiore. Il video di quest'album riceve un premio nel 2006 al Meeting delle Etichette Indipendenti. sempre nel 2005 con Matteo Zanobini scrive e interpreta la canzone Indie Hit 9-2-10, un omaggio alla serie tv Beverly Hills 9-2-10, sotto il nome di The Minnesotas e diventa autore di canzoni e musiche per serie di animazione televisiva, collaborando con Andrea Zingoni per le serie Gino il Pollo, le ricette di Arturo e Kiwi e Dixieland. Nel giugno 2009, Dario Brunori, noto con lo pseudonimo Brunori Sass, pubblica il suo album d'esordio volume 1, caratterizzato da brani semplici e diretti. Il disco si aggiudica il premio Ciampi 2009 come miglior disco d'esordio. Durante il tour promozionale, che conta oltre 140 date, Brunori Sass è accompagnato da Simona Marrazzo, cori e percussioni, Dario della Rossa, piano e tastiere, Mirko Onofrio, sax e fiati, e Massimo Palermo, batteria. Questo tour gli consente di vincere il premio di Keep On Live come personaggio live della stagione. Inoltre, uno dei brani dell'album, Paolo, diventa la sigla del cartone animato Dixieland, in onda su Rai YoYo, sebbene con il testo rielaborato. Due anni dopo la pubblicazione di volume 1, Dario Brunori rilascia volume 2, Poveri Cristi. In questo album si dedica a raccontare le storie di vita altrui. Il nuovo lavoro presenta una struttura più complessa grazie all'apporto della band e alla collaborazione di Dente e Di Martino. La forma canzone è melodica e tipicamente italiana. L'album segna anche l'ingresso stabile del violoncellista Stefano Amato nella band e il lancio di Piccicca Dischi, la nuova etichetta discografica fondata da Dario Brunori insieme a Simona Marrazzo e Matteo Zanobini. Nel 2012, uno dei brani dell'album, Una domenica notte, ispira il lungometraggio di Giuseppe Marco Albano, in cui Dario e la sua band fanno anche una breve apparizione. Sempre nel 2012, Brunori Sass compone la colonna sonora di E' nata una star? Film di Lucio Pellegrini con Rocco Papaleo e Luciana Littizzetto. La colonna sonora, che include canzoni inedite e brani strumentali, viene pubblicata come nuovo LP da Piccicca Dischi nel 2013. Nel maggio 2012, Brunori Sass si esibisce a musica da bere e riceve la targa artista emergente. In questo periodo, oltre alla carriera di musicista, Brunori si dedica anche alla produzione artistica. Oltre a produrre i suoi tre album, si occupa anche della produzione dei lavori discografici di Maria Antonietta e Di Martino, i primi artisti ingaggiati da Piccicca Dischi. Come Groucho Marx, con cui condivide l'amore per le battute e il nonsense, l'immagine di Dario Brunori è caratterizzata da baffi e occhiali sin dai suoi esordi. Per ironicamente distaccarsi da questo stereotipo, nel 2013 nasce il progetto Brunori senza baffi, un tour teatrale in trio che ripropone il repertorio dei suoi tre album e alcune cover con un'attitudine più acustica e suggestiva. Il tour, che si chiude a settembre 2012, riscuote ovunque un grande successo, con tutte le date sold out. Nell'ottobre 2013 iniziano le registrazioni del terzo album di Brunori Sass. Il 16 dicembre vengono annunciati la data e il titolo dell'album Volmer 3, Il cammino di Santiago in taxi, che viene pubblicato il 4 febbraio 2014. L'album è stato registrato in un convento a Belmonte Calabro con il produttore giapponese Taketo Gohara. Il 7 gennaio esce il video del primo singolo, Kurt Cobain, dedicato al cantante dei Nirvana. Tra marzo e aprile 2014, il tour nei club Volmer 3, Il cammino di Santiago in taxi, registra il sold out in tutte le tappe. L'album debutta alla quinta posizione nella classifica Fimi di vendite, al secondo posto su iTunes e al primo posto su Spotify come artista più ascoltato. Brunori Sass viene invitato ufficialmente e partecipa al concerto del primo maggio a Roma. A giugno Ligabue sceglie Brunori Sass come open act per i suoi concerti a Milano, Stadio San Siro, e Roma, Stadio Olimpico. Tra marzo e aprile, Brunori Sass porta nei teatri più prestigiosi d'Italia il tour teatrale Brunori 6RL, una società a responsabilità limitata. Per la prima volta, Dario Brunori presenta uno spettacolo che mescola cabaret, teatro-canzone e concerto, alternando monologhi intimisti e brani del suo repertorio in un set completamente rinnovato, ispirato alla stand-up comedy. Il tour registra quasi sempre il tutto esaurito. Il 20 maggio 2015 va in onda in prima tv assoluta su La F, il documentario Una società a responsabilità limitata, che segue Dario Brunori e Neri Marco Re in un viaggio tra Roma e Calabria. Il documentario, ispirato allo spettacolo teatrale di Brunori, presenta i suoi brani più significativi e racconta ricordi e aneddoti, esplorando il tema della responsabilità limitata. Il 24 novembre 2016, attraverso un articolo su Il, idee e lifestyle del sole 24 ore, Dario Brunori anticipa i temi del suo nuovo disco, annunciato il 5 dicembre 2016, con il titolo A casa tutto bene, piccicca dischi. Brunori spiega che le canzoni dell'album trattano la necessità di affrontare le piccole e grandi paure quotidiane e il desiderio di trovare un rifugio sicuro. Il 16 dicembre 2016 viene lanciato il singolo La Verità, accompagnato dallo stesso giorno dal videoclip realizzato da Giacomo Triglia. A casa tutto bene esordisce il 20 gennaio 2017, raggiungendo la terza posizione nelle vendite Fimi, è il primo posto su iTunes e Spotify. Fimi certifica il singolo La Verità come disco d'oro e l'album A casa tutto bene come disco d'oro. L'11 gennaio 2017, lo speciale su Sky Art e Brunori Sass, A casa tutto bene anticipa la pubblicazione dell'album. L'album viene registrato a San Marco Argentano presso la Masseria Perugini. L'omonimo tour invernale di A casa tutto bene, partito il 24 febbraio 2017 da Udine, registra il tutto esaurito in tutte le 18 date in calendario e vede Brunori Sass come gruppo headliner al concerto del primo maggio in Piazza San Giovanni a Roma. Il 16 giugno 2017 inizia il tour estivo con 18 date in Italia, partendo da Padova. Il 27 luglio 2017 Brunori Sass vince il premio Pimi speciale del MEI come miglior artista indipendente dell'anno. Il 1 agosto 2017 la Fimi certifica La Verità come disco d'oro. Il 2 settembre 2017 il video del singolo La Verità, scritto da Dario Brunori e diretto da Giacomo Triglia, vince il premio Pivi 2017 del MEI per il miglior video indipendente dell'anno. Il 1 luglio 2018 la Fimi certifica Canzone contro la paura come disco d'oro e il 13 agosto 2018 certifica A casa tutto bene come disco di Platino. Il 28 giugno 2017, durante la presentazione dei nuovi palinsesti RAI a Roma, viene annunciato che Brunori condurrà il programma Brunori Sa in onda dal 6 aprile in seconda serata su RAI 3. Nello stesso giorno Brunori annuncia il nuovo tour teatrale Brunori a teatro, canzoni e monologhi sull'incertezza, che partirà a febbraio 2018. Il 6 aprile 2018 va in onda su RAI 3 la prima puntata di Brunori Sa, un programma condotto da Dario Brunori che attraverso cinque episodi esplora i desideri, le paure e le contraddizioni della generazione dei quarantenni, affrontando temi esistenziali come la salute, la casa, il lavoro, le relazioni e Dio. L'8 febbraio 2019 Dario Brunori si esibisce al Teatro Ariston durante la serata dei duetti del Festival di Sanremo 2019 insieme agli Zen Circus, con la canzone L'amore è una dittatura, che si classifica 17esima nella classifica finale. Il 18 settembre 2019 esce il nuovo singolo Al di là dell'amore. Viene inoltre annunciato un tour nei palazzetti a partire da marzo 2020. Il 27 settembre successivo viene pubblicato il videoclip di Al di là dell'amore, scritto da Dario Brunori e diretto da Giacomo Triglia. Il singolo anticipa l'uscita del quinto album in studio del cantautore, intitolato Chip, annunciato da Brunori il 4 dicembre 2019 tramite un post sul suo profilo Instagram e previsto per il 10 gennaio 2020 per l'etichetta Island Records. È inoltre annunciata per il 13 dicembre 2019 la pubblicazione del secondo singolo estratto dall'album, per due che come noi, accompagnato dal videoclip diretto da Duccio Chiarini. Il 9 marzo 2020 la Fimi certifica Chip Disco d'Oro per le oltre 25.000 copie vendute. L'8 giugno, per due che come noi, viene certificato Disco d'Oro dalla Fimi per le oltre 35.000 copie vendute. Il 1 febbraio 2021, anche al di là dell'amore, ottiene la certificazione di Disco d'Oro per le oltre 35.000 copie vendute. Il 10 dicembre 2021, Dario Brunori pubblica un album devozionale dedicato a Fiammetta, la sua primogenita. Questo progetto speciale è una versione acustica del precedente Chip, arricchita da strumenti a percussione intonata, fiati e corde che creano un'atmosfera calda e accogliente, simile a quella delle Ninnenanne. Gli 11 brani dell'album seguono la stessa sequenza dell'album originale, ma includono voci infantili e suoni di animali per incantare l'attenzione dei bambini e creare un'atmosfera fiabesca. Il ricavato delle vendite è destinato all'acquisto di attrezzature per il reparto di neonatologia dell'ospedale di Cosenza. A due anni esatti dall'uscita di Chip, Dario Brunori pubblica l'11 gennaio 2022 l'IP Chip. Questa raccolta comprende cinque canzoni casalinghe, scritte e registrate in una settimana nel dicembre 2021, con uno stile scarno e un approccio buona la prima. L'EP è essenzialmente un divertissemò, creato per offrire qualcosa di leggero e immediato, in contrasto con la serietà e la complessità dei dischi ufficiali. Il progetto affronta tematiche attuali, ma con un approccio più informale e spontaneo. La pubblicazione di Chip, prodotta insieme a Massimo Palermo, batterista dei Brunori Sass, è stata anticipata da un'anteprima live sulle piattaforme social, durante la quale Dario Brunori ha fatto ascoltare le cinque canzoni al pubblico, esattamente nel momento della loro registrazione. Il video delle registrazioni è stato girato e montato dal regista e videomaker Giacomo Triglia. Inoltre, nella traccia di apertura Yoko Ono, si può ascoltare un piccolo cameo del regista Duccio Chiarini, che presta la voce per l'introduzione della canzone. Dario Brunori è sentimentalmente legato a Simona Marrazzo, sua collaboratrice nei lavori discografici e co-fondatrice della casa discografica Picicca Dischi. La coppia ha avuto una figlia, Fiammetta, nata nell'ottobre del 2021. L'album Baby Chip, una versione strumentale di Chip, composto da ninne nanne per bambini e pubblicato nel dicembre dello stesso anno, è dedicato alla loro figlia. Dario Brunori calca il palco del Teatro Petruzzelli di Bari per partecipare a Meraviglioso Modugno, evento inaugurale del Medimex dedicato al compianto cantautore. I suoi brani sono utilizzati come contenuti speciali nelle trasmissioni Caterpillar e Twilight di Rai Radio 2. Collabora a brani di Marco Notari, Nicolò Carnesi e i Gatti Mezzi e nel 2013 partecipa al video di Eugenio Finardi per Passerà. Nello stesso anno entra a far parte del progetto musicale Stazioni Lunari con la direzione artistica di Francesco Magnelli dove divide il palco con Ginevra di Marco, Cristina Donà, Dente, Simone Cristicchi, Nada, il Coro dei Minatori di Santa Flora, Cisco, Max Gazzè e Enzo Avitabile. Nel 2015 duetta con Cassandra Raffaele nel brano La sirena e il marinaio dall'album Chagall. Attivamente impegnato in campagne sociali suona a favore di Unicef come ambasciatore calabrese, per Emergency, al Teatro Valle Occupato, al Teatro Coppola di Catania e nella città di Mormanno dopo le devastazioni del terremoto. Collabora nel 2013 con il rapper Cosentino Chiave nel brano Identità e appare in cammeo nei film di Marco Caputo e Davide Imbrogno, l'attesa è di Fabrizio Nucci e Nicola Rovito, Goodbye Mr. President. Nel 2021 è presente come featuring in La violenza della luce di Gianluca De Rubertis e Povero cuore di Mobrici, ex cantante dei Canova. Nel 2023 fa un cammeo nel varietà Aurora Leone, una famiglia a pretesto. Il 13 febbraio 2024 è ospite del podcast Tintoria con Daniele Tinti e Stefano Rapone.